In giro è quasi... No, no, è andato a dormire perché è all'estante. Domani alle 10 abbiamo appuntamento... Domani alle 10 abbiamo appuntamento... Stiamo venendo. Non la vediamo per un secondo tempo, è accettata, il figlio, il fratello, eccetera. Ci voleva e non è scuso che quest'anno ho promesso anche a quello che era il delegato dell'isola, eccetera, che ci ha dato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vanno bene? Sì, le facciano. Ancora? Sì. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.